Se l'ho dato Gesù Cristo. Dice San Paolo che noi siamo concittadini dei santi, edificati come pietre sulla pietra angolare che è Cristo e con gli apostoli come colonna di un edificio e cresciamo ben ordinati, armoniosi. Questo fatto deve farci capire, e specialmente nei tempi che stiamo vivendo, come il nostro fondamento, il fondamento della Chiesa, sia su qualche cosa di eterno, di non visibile, ma che costituisce la solidità estrema, la vera base su cui poter esistere, ed esistere con un senso, con un senso della vita nostra individuale, e con un senso d'insieme di popolo di Dio che vive formando la città di Dio. La città di Dio è quella che esiste in questo mondo e il mondo non la sopporta perché è la città fondata sulla giustizia, la verità e soprattutto l'amore. Questo è quello che tesse la vera città e tutto il resto crollerà. Nel futuro, quello che sarà nella vita eterna, rimarrà solo questa città edificata, secondo la legge dell'amore che è la legge di Dio. La città terrena, quella del mondo, è edificata sul potere, la violenza, il sorpruso, la menzogna. Le due città convivono, non in un luogo diverso dall'altro, ma nello stesso. Sì che noi non vediamo, ma con gli occhi della fede vediamo che questa realtà visibile che tiene la salvezza delle nostre vite e ci fa vivere secondo virtù e valori che non solo ci hanno insegnato, ma che vivono dentro di noi perché è Cristo stesso che vive dentro di noi. Ebbene, questa realtà invisibile è la città di Dio, è la Chiesa. La Chiesa che, anche se ora sembra frantumata perché è attaccata dall'esterno e dall'interno, pezzi di essa sembrano andarsene alla deriva, il riferimento alla verità spesso viene perduto o viene misconosciuto. Tutto questo non toglie la qualità della Chiesa di Cristo che è fondata sugli Apostoli e su Lui stesso, il quale ha detto io sarò con voi fino alla fine del mondo. Stare con Lui nella sua Chiesa, dunque, è rimanere a dispetto del mondo che vorrebbe sostituire pezzi di mura o pezzi di edificio della Chiesa con qualche cosa d'altro. Vorrebbe assimilare la Chiesa al mondo, ma la Chiesa non è assimilabile perché non si può amare il mondo e Dio, non si può amare Mammona e invece Dio. E noi, fondati su questo amore, fondati nella verità, resistiamo saldi nella fede laddove siamo stati piantati, cioè in Cristo, per mezzo del nostro battesimo. E nulla potrà sottrarci dalla mano di Cristo perché il Padre ci ha dati a Lui. Dio vi benedica.